La Biennale di Poesia di Alessandria si evolve e aderisce a un nuovo progetto di respiro molto ampio e coraggioso che al momento, come fondatori, coinvolge il piccolo Museo della Poesia di Piacenza e la Casa della Poesia di Como, con la collaborazione come partner tecnici di punto a capo editrice e dei quaderni del Bardo Edizione. La nuova Biennale ha ereditato buona parte degli appuntamenti ormai consolidati dalla vecchia e gloriosa Biennale di Poesia di Alessandria, aggiungendo altri eventi in varie località per creare un calendario che abbraccerà tutto il 2022. La Biennale di Poesia di Alessandria, in collaborazione con il connettivo Fatefolli di Poesia Poeti, sabato 18 giugno 2022 delle ore 17.30 in poi, ha organizzato, presso il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, il Solstizio dei Poeti. La struttura dell'evento nell'info box di questo video.